Il totale per questo mese è 335 sterline, 18 sterline e 7 centesimi. Questa raccolta contribuisce a portare per la terza volta il fondo ben oltre 1000 sterline. Un altro sterline volerà nei cieli. Oggi c'è un messaggio per le ragazze che si sono arruolate come ausiliarie per i lavori nei campi. Voi vi siete sicuramente guadagnate il diritto di considerarvi combattenti a tutti gli effetti. In questi duri giorni di guerra ogni acro coltivato significa più cibo per i nostri compatrioti. Oggi ragazze siete più di 20.000 in servizio. Con la vostra abilità e devozione avete permesso ai nostri uomini di correre al fronte per difendere quella terra che prima coltivavano. I loro compiti ora sono nelle vostre mani, mentre loro abbandonano la razza per impugnare lo standardo della libertà, per combattere sulla terra, sul mare e nei cieli.